Esibizione sfortunata quella di Mauro Corruzzi, in arte Platinette, a tale quale show 2017, dove in occasione della primissima puntata, ha interpretato Sylvester. Dopo la presentazione iniziale, avvenuta come per tutti i concorrenti sotto l'ascensore, dove Platinette ha ironizzato dicendo pronto è una parola grossa. Pronta è un'altra parola grossa. Diciamo che sono pronta. Arrivato in studio con l'ascensore, forse a causa della scarsa illuminazione, lo studio al momento del suo ingresso era semibuio, Platinette è caduto sul palco rovinosamente, inciampando davanti alle telecamere. La caduta di Platinette ha fatto spaventare non poco Loretta Goggi, subito inquadrata con aria e preoccupata. Piccolo momento di imbarazzo e difficoltà anche per il conduttore Carlo Conti, che dopo un attimo di esitazione, si è assicurato che tutto andasse bene lanciando quindi l'imitazione, o meglio il ricordo di Sylvester. Presto dimenticata la caduta, l'esibizione di Platinette a tale quale show è poi andata benissimo, tanto da meritarsi applausi scroscianti e un giudizio molto positivo da parte di tutti e tre i giurati, ossia la Goggi, Enrico Montesano e Christian De Sica. Grazie a tutti.